Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità smog. Oltre i limiti, sia oggi che domani nella fascia verde cittadina sono previste alcune limitazioni alla circolazione. In particolare è stabilito un divieto per le auto e i veicoli merci a benzina sino a Euro 3 e diesel fino a Euro 4.